Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Si viaggia rallentati per traffico in Fipilì tra la Stassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo siena Firenze riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato. Riduzioni in entrambe le carreggiate anche tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. Al via i cantieri a Firenze della nuova variante Fortezza San Marco della Trambia, che riguardano Piazza della Libertà, Piazza San Marco, Viale Lavagnini, Largo Martiri delle Foibe e Viale Milton. Circolazione ferroviaria sospesa tra Firenze di Fredi e Firenze Campo di Marte fino al 28 agosto per lavori alla Galleria Pellegrino. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!